salve a tutti ragazzi eccoci qui con un nuovo episodio di left for the 2 che non si vedeva da un po' fin troppo direi ed ecco qui il mister mesme che avete appena sentito piccola premessa abbiamo perso lo gnomo lo so è una perdita dolorosa e l'altra serie ci sono stati funerali abbiamo pianto tanto la community italiana è molto addolorata per questo però non è ancora di più infatti guardate quanto quanto sangue perdono infatti però bisogna andare avanti quindi con o senza di lui dai guardate che bei cigni che abbiamo in compenso ma che cazzo che mi spara questo abbracciato il cigno e comunque sì allora volevamo dirvi che probabilmente non è ancora sicuro però probabilmente interromperemo le due serie di digimon e di portal perché calma io la interrompo sicuro a lei la interrompe sicuro perché mesme la interrompe sicuro perché non riusciva a registrare smetti di spararmi comunque ho dei problemi a registrare non so per quale arcano motivo ho persino cambiato il microfono per problemi con quello vecchio che vabbè quello in effetti non si sentiva e quindi nulla tu non riuscivi non si riusciva a sentire la sua voce quindi boh niente ho registrato l'episodio di porta qualcosa come tre o quattro volte ripartendo tutte le volte rifacendo tutte le stanze da capo alla quarta volta che col microfono nuovo non andavo ho detto senti fanculo vabbè la pianda al culo e l'hai piantato lì qua non c'è un cazzo innanzitutto se è una sala pompe che cazzo è successo da faccia mi ha laggi ma che cazzo ma guardi sì ma mi sta laggando la manetta eh vabbè dai ogni volta che passi la luce ma ogni volta che passo qui che cazzo vabbè comunque c'è una puttana nell'aria niente in poche parole non abbiamo voliamo interoperare anche questa serie sto giro ti brucio ti bursto puttana perchè in poche parole crepa crepa farà come gode vabbè dicevamo non abbiamo interromperla non abbiamo interromperla vorremmo interromperla perchè diciamo che da soli non c'è lo stesso sdrogheggio che c'è si vabbè visto che tanto tiriamo in mezzo i termini melagodiani non so con calma Johnny Crick si si bling bling dalla Zalar ma ti puoi presenti che non ho più colpi ma come non hai più colpi in ancora 58 io li ho finiti vabbè comunque vogliamo interoperare questo motivo perchè magari vi annoiavava vi annoiavava vi annoiavava segreto dove cazzo porta no che cazzo l'ho tirato fuori da merda ma che senso ha vabbè va e torna indietro stupida rochelle e niente quindi vogliamo interromperla per questo poi magari diteci anche la vostra se volete nei commenti più che altro sapete che io come ho detto sono impossibilizzato a registrare lui lo fa per semplice cazzeggio no non è che lo faccio per semplice cazzeggio sì lo faccio perchè magari annoia la gente che guarda i video e quindi ma poi hai scelto un gioco difficile pure ti devi andare avanti con la guida ha detto certo se no non vai avanti e lo so è quello che ho detto anche nel video precedente perchè se non segui la guida non vai da nessuna parte bling bling tala tala ehi benvenuti muori cecchino 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 e nulla comunque niente volevamo interromperla per questo motivo hai detto dieci volte ma vabbè proseguiamo con l'episodio che è meglio questa scena mi ricorda un'altra famosa scena ma evitiamo di replicarla ma a te te la dirò dopo oh cazzo guarda quanta gente che sale su salutate la bomba saluta la pompa oh yeah la bomba sentite io me butto micifico proprio oh c'entra 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 niente stasera siamo di citazioni no sense io spero stia registrando anche la tua voce spero per te che si senta anche perché no non vorrei trovarmi come quella di digimon online non vorrei trovarmi esatto non vorrei trovarmi sorprese la spedal madonna madonna sto cecchino quanto mi ha rotto i coglioni c'è il cecchino no dai non l'ho neanche visto e non vederlo è grave madonna viste le dimensioni della sua spalla direi un po' tanto grave vabbè oh merda ma no non mi seguire a me brutto figlio di una zocco la maiala ma datemi un'arma la domanda chi ti dice qua scarella ms uu via mattina tummattonazzi in bocca neanche obbligo allora ma io farei che sale ms bravo la alla starella potente l'elicottero ragazzi un'elicottero ma cosa sono perché mi vede l'elica come un quadrato che gira io non lo vedo proprio fai te io non lo vedo vabbè eh si pureremo pure noi ci sono gli antidolorifici mori mori morite anche tu l'eccezione per te non vale guarda quanta gente che vuole sdrogheggiare si si abbiamo tutta una community qui di gente qui morite tutti oddio oddio mi ha inculato io stavo pensando se sentite la mia voce decisamente scazzate perché sono entrato nella fase oh mio dio domani devo tornare a scuola se voi sentite la mia voce così stanca è perché stanotte ho dormito 4 ore e ho appena finito di lavorare potevi farti ancora sti due anni con me e tu no io vado mi sto facendo di big money che big money big money piantala lì su scricchiere di scarpe da clown che non è come dovrò prendersela ah signori preparatevi alle grosse risate e via e via appena si apre da ie attacco in arrivo ha detto ha detto attacco in arrivo cazzo dai amo questo livello è difficilissimo madonna si madonna si oddio santo aiuto aiuto vi prego aiutatemi cazzo cazzo non l'avevo visto ho sentito un charger ma non pensavo per l'estate corri parola grossa però corri fatti di adrenalina io sto andando su da solo mentre il teo rimane lì in compagnia di quei due inutili personali devi guidati al computer davanti agli ma dobbiamo farci tutta la pista per forza a piedi eh già interrompi la cosa per fermare l'allarme ben detto Nick grazie al cielo non ci sono giri della morte di cos'è che mi sto stupendo più che altro che è arrivata metà della gente che arriva di solito eppure sempre a solita difficoltà spenta l'hai spento? sì sì ma tipo qua c'è il macello più totale c'era madonna dai vai corri 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 dai andiamo steso la speeder andiamo andiamo io ti ero una cosa indietro spostati scapa il ca dai siamo al rifugio dai e dai e dai e dai e dai e o le e lui o lì e tipo su perchè ci sono qui 2 non ce la faranno mai signori notare che noi siamo già alla fine loro sono lì pericazzi loro se mi fanno morire nella safe house madonna le bestemmie senti chiudi dai chiudi e non posso perchè se sono qui non posso davvero eh già non ti fa chiudere un... cioè si chiude ma non... dai entrate stronzi muovetevi dai ciccione di merda cazzo di buddha hola va bene ragazzi io devo scappare e anche io che dire è stata una puntata abbastanza rapida abbastanza rapida comunque le novità le sapete comunque come ho accennato col post sul canale ci sarà una novità che arriverà poi una cosa che aggiungeremo alla serie di Life for the 2 cercheremo di fare più serie dove saremo in compagnia di entrambi per sdrogheggiare al massimo quindi nulla ci salutiamo ci vediamo al prossimo episodio oh 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 1019 solo mesme oh 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 vabbè ciao 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 ciao